Si è conclusa l'autopsia sul corpo della piccola di tre anni e mezzo uccisa dal padre lo scorso martedì mattina a Levane ad eseguire l'esame autoptico l'equip di medicina legale dell'ospedale di Siena. Entro 60 giorni i risultati saranno consegnati al PM Laura Taddei. Non emergono al momento indiscrezioni, ma una prima ricognizione esterna nei giorni scorsi aveva comunque confermato che il colpo fatale per la piccola sarebbe stato quello al collo. La bimba avrebbe anche tentato di difendersi, aveva infatti una mano ferita. Il padre, Bilal Mial, intanto si trova ancora in ospedale a Firenze in stato di shock. Non appena le sue condizioni miglioreranno, torneranno il carcere di Soldicciano, come è deciso dal GIP del Tribunale di Arezzo che ha disposto per il 39enne la custodia a cautelare in carcere. Secondo il giudice, l'uomo sarebbe al momento ancora pericoloso per se stesso e per gli altri. Su di lui pesa l'accusa di omicidio aggravato e tentato omicidio. La tragedia si è consumata lo scorso martedì nell'abitazione dove la famiglia viveva una manzarda in via Togliatti. Il 39enne, all'improvviso, in preda ad un raptus di cieca follia, avrebbe aperto un cassetto, impugnato un grosso coltello a forma di roncola e aggredito i suoi figli. Il più grande, di 12 anni, è rimasto ferito, ma è riuscito a salvarsi. Per la piccola non c'è stato scampo. L'uomo, subito dopo il delitto, ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. Sono stati i vigili del fuoco a recuperarlo. È stato così accompagnato all'ospedale della Gruccia per le cure del caso e successivamente trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano. Qui, però, avuto una nuova crisi nervosa, è stato ricoverato all'ospedale di Firenze, dove ancora si trova in stato di alterazione. non avrebbe infatti piena coscienza di quanto commesso spetterà ad una perizia psichiatrica a stabilire se il 39enne sia o meno capace di intendere e di volere.